Roma stregata da Julmand, già avviati i contatti con Lecce. Ciao romanista tifoso giallorosso. Benvenuti nel canale di notizie Nas Roma. Qui troverai le ultime notizie e notizie sul mondo Nas Roma, iscriviti ora al canale per avere accesso alle ultime notizie in prima persona. La prestazione a tutto tondo, a tratti fin troppo ruvida, culminata con quel fatto durissimo su Dybala nel recupero che meritava il rosso, Di Morten Julmand sembra aver convinto ancora di più la Roma a puntare sul centrocampista danese in vista della prossima stagione. I contatti tra Thiago Pinto e Corvino, due di esse che si apprezzano e si stimano, sono già stati avviati dallo scorso dicembre. Stando a quanto racconta oggi il Corriere dello Sport TR, Maida, il danese classe 1999 viene valutato dal Lecce già 15 a 20 milioni. Cifra che la Roma pensa di abbassare inserendo un giovane, i Salentini avevano corteggiato Bove a gennaio, o è nell'affare. Lascia il tuo mi piace su questo video, il tuo mi piace aiuta il canale a crescere e raggiungere un pubblico ancora più vasto, il che ci motiva a produrre sempre più contenuti di qualità. Grazie. Continua. E pensare che Julmand è stato pagato dal Lecce appena 170 mila euro, prelevandolo nel gennaio del 2021 dall'Admira Walker, club che milita nel campionato austriaco. Il centrocampista danese ama giocare davanti alla difesa, ma può destreggiarsi anche da intermedio di centrocampo. Abbina una buona tecnica di base a un grande dinamismo, oltre ad avere le stimate del leader, dopo una stagione e mezzo, Baroni gli ha affidato la fascia da capitano, segnale di quanto il giocatore si è stimato anche dai compagni. Grazie per aver guardato il nostro canale di notizie Nas Roma e per aver lasciato il tuo commento. La tua opinione e il tuo feedback sono molto importanti per noi in quanto ci aiutano a capire cosa ti piace e cosa possiamo migliorare. Continua a seguire il nostro lavoro per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie e notizie sull'As Roma e sul mondo del calcio. Assicurati di lasciare il tuo commento sui prossimi video e condividi il canale con i tuoi amici e familiari che amano anche il calcio. Al prossimo!